Cominciamo piano piano, cioè io vi ringrazio, buonasera, buonasera, vi ringrazio tantissimo, io sono Moderna Benzio, sono titolare di Milo Camera che abbiamo creato in questo nuovo spazio. Inauguriamo questo spazio e che verrà utilizzato per mini workshop come questa sera o workshop anche intera o presentazione dei prodotti. Volevo creare un punto molto particolare, cioè molto più easy, punto di anche aggregazione degli appassionati che si incontrano e che fanno anche amicizia, cioè non amicizia su Facebook. E magari vi dia anche qualcosa che rimanga e che vi dia un punto di riferimento, saremo veramente contentissimi. Comunque, vi ringraziamo tantissimo di essere venuti qua e grazie, io questo ragazzo conosco da molti anni, moltissimi anni. Per me è un onore, grazie a tutti di essere qui, in questa sede particolare, perché io ho conosciuto Ryu vent'anni fa, forse quando ero proprio qui dentro. Io ero seduto qua con un tavolino piccolo con Alex Maioli, che poi lui è diventato un mister, un super fotografo, presidente Magnum. E quindi abbiamo iniziato qui da Ryu a comprare le prime macchine, a vendere, a fare, a disfare, lui ci ha sempre seguito. Per me è importantissimo fare il primo questa sera qui dentro, lo ringrazio tantissimo per la fiducia che mi ha sempre dato, perché grazie a lui sempre sono arrivato agli occhi della guerra, mi ha presentato agli occhi della guerra. Grazie a lui sono arrivato a Fuji, insomma io dovrei dirgli grazie dalla mattina alla sera. Non ho fatto niente, è merito tuo, anzi, meriti molto di più. Non bisogna ringraziare Cano che ci ha messo a disposizione il sacramento lì sopra, che è una cosa non volosa, che si chiama Exid Vux 4000, che è una cosa incredibile. Io sono Maurizio Faraboni, sono un fotoreporter, oltremmeno ci provo da tanti anni. Ultimamente ho collaborato con gli occhi della guerra, c'è un collega carissimo che è Giovanni Masini. Allora, lui è Giovanni Masini, ve l'avevo anticipato prima, abbiamo fatto un bellissimo lavoro, l'idea sua, lui era già partito per seguire il flusso dei migranti attraverso l'Europa. Lui li ha seguiti proprio dalle coste turche fino a Germania, se è arrivati giusto? Io mi sono aggregato in Grecia e ci siamo salutati alla stazione di Budapest, perché avevo degli altri impegni dovevo rientrare. È stata un'esperienza incredibile perché l'abbiamo fatto in maniera diversa. La nostra idea non era quella di andare solo nei campi profughi e fotografarli come quando siamo arrivati a Rochke, per esempio la zona dove è diventata famosa per lo sgambetto della giornalista. Erano più televisioni, giornalisti e fotografi che migranti. Noi invece abbiamo voluto viaggiare con loro sui treni, sui pullman, a piedi, abbiamo camminato nelle foreste, adesso vedremo il filmato insieme a loro. Siamo passati illegalmente sotto il filo di Orban ed è stata un'esperienza incredibile. Dopo due o tre ore di cammino, io personalmente, non parlo per me non per Maurizio, ma quasi tendevo a dimenticarmi del motivo per cui ero lì. In quel momento il mio obiettivo non era portare a casa un servizio o appuntarmi dei dettagli importanti o fare delle buone riprese, ma era passare il muro di Fiostinato. Lo dico sempre anch'io, appena siamo entrati in Ungheria ci siamo abbracciati come se avessimo vinto la Champions League perché ormai eravamo parte di quel gruppo, non eravamo più due giornalisti che erano lì per documentare quella cosa. Noi ci eravamo presentati con il nostro zainetto pensando di fare una camminatina, fare tre foto, invece abbiamo camminato nove ore e quindi non avevamo né da bere né da mangiare, ce l'hanno dato loro. Salvandoci dalla sede, io morivo di sei a due, abituato a camminare io con il mio pancione in mezzo al zoppo, facevo una fatica del boia. L'obiettivo era arrivare, ormai eravamo come loro, non abbiamo messo la maglietta della Merkel come hanno fatto loro, ma l'obiettivo non era più il servizio, era oltrepassare il confine ed è stata una cosa incredibile. Stanchezza tanta, c'era una ragazza che aveva perso il bambino durante il tragitto, quindi ogni tanto si andava a riletto perché c'erano tempi molto, si camminava venti minuti, poi cinque minuti di pausa, mezz'ora, dieci minuti di pausa, così per tutto l'arco del viaggio. E questa ragazza aveva perso, aveva fatto un aborto e quindi camminava veramente, veramente piano. Eppure c'è, io c'è stato un momento che non ce la facevo più e ho detto, ma se ce la fa lei, perché loro erano già 4-5 giorni che lo facevano, dico se ce la fa lei, ce la devo fare anch'io. E' stato per me una delle più belle esperienze che ho fatto ultimamente, proprio a livello umano, a livello umano mi ha lasciato tantissimo. Noi ci siamo completamente fatti coinvolgere dalla situazione, perché se no non avremmo fatto un servizio del genere. Ripeto, rimanevamo a Rosche dove c'era tutta la stampa possibile da immaginare, c'erano le immagini, anche noi siamo stati in un'oretta, giusto da bere qualcosa, perché siamo ripartiti. Bastava stare lì, facevi tutti i ritratti che volevi, i bambini che volevi, però non avremmo visto quello che abbiamo visto da lui, perché penso che siamo in pochi a poterlo raccontare un'esperienza del genere. E quindi a me interessa quello del mio lavoro, ecco perché dico sempre che è una missione sociale, per me non è avere la bella immagine di andare in giro e dire ho vinto il wordpress foto. A me piace raccontare delle storie e cerco di farlo il meglio possibile, coinvolgere e portarli là dove siamo stati io e lui. Quello mi interessa, che la gente capisca cosa si prova in certe situazioni, perché in mezzo a una guerra, si sa, sei in mezzo a una guerra, però situazioni borderline come quelle che fotografo io, se non riesco a coinvolgermi, a tirarvi dentro e a farvi capire cosa si prova, Allora è meglio che lascio stare, deve arrivare un messaggio forte. Secondo me arriva anche magari tramite la bella immagine, però io parto già con un progetto nella testa. Voglio raccontare questo, lo voglio raccontare così, poi possono succedere dei cambiamenti, degli imprevisti, può succedere di tutto. Però bene o male, un reportage lo si studia a casa, si fanno ricerche, si senti altre persone che ci sono già state, fai tutto il suo internet, i libri, ti studi la storia, il percorso. Non è facile, non è che prendi un aereo una mattina e dici vado là, arrivo e poi cosa fai? Il reportage purtroppo è una cosa meravigliosa, fascinante, però non è così semplice come sembra, no? A me scrivono tutti i santi giorni, adesso che sono in Bassano dei Fuji, gente che mi dice vorrei andare in Siria, ma cosa vai a fare in Siria oggi? Cosa vai a fare in Siria? Farti ammazzare, senza idee, dico ma conosci qualcuno, hai dei contatti? No, io vorrei andare là, ma è meglio che se ti vuoi ammazzare vai sotto un treno. Quello che la gente non capisce è che dal vedere i grandi fotografi, i libri, le belle immagini, puoi andare a svilupparle e portare a casa la pelle e non è così la cosa, il sogno. Il lavoro è quello sulla lepra, che magari tanti di voi l'hanno visto in internet e quant'altro. Io per vent'anni avevo lavorato a questo progetto in bianco e nero, in pellicola. Già anche in era dei digitali io continuavo a fare in bianco e nero e pellicola. Poi un giorno, siccome il mio più grande cruccio è quello di avere la consapevolezza che i bambini possono essere guariti con una carnera iperbarica, ho deciso di giocare l'ultima carta. Ho detto, le faccio a colori perché avevo capito che dalle immagini in bianco e nero non traspariva il dolore che prova questa gente dalle ulcerazioni e quant'altro. Ho detto, faccio delle foto shock a colori. Non mi interessava, ripeto, l'inquadratura al super fotografo, ma volevo delle immagini che prendessero a pugni in faccia e le vedevano. Mi pare che ci sono riuscito e adesso, durante tutto l'arco di quest'anno, raccoglieremo dei fondi. Nel 16 febbraio ho appuntamento con un gruppo missionario che opera in Benen. L'intento è quello di comprare una camera iperbarica perché i bambini possono guarire da questo. Questo progetto io lo porterò avanti penso all'infinito perché comunque finché non riuscirò a rendere giustizia a questa gente, siccome ho la testa molto dura, vada boom, vada boom, vada boom, appena posso, torno e faccio materiale nuovo. Il tutto era nato durante un viaggio in Benen nel 99. Ero lì per tutt'altro e mi sono bucato un piede. Lontano dall'ospedale dove ero con questi medici che erano a fare delle operazioni ai lavari leporini, mi sono trovato lontanissimo. Niente, avevo bisogno di cure per questo piede insomma, sono entrato in questo villaggetto, chiamiamolo così, pensando che fosse un piccolo ospedale, invece era un leborosario. Inizialmente non c'era in giro un'anima, non c'era nessuno. Ho aspettato un po' finché mi è venuto incontro una persona che mi ha scioccato, mi ha scioccato in una maniera che ogni tanto me lo sogno ancora perché perdeva pezzi, era brandelli, sembrava che si fosse sciolto. L'ultima cosa che ho pensato era quella di fare delle fotografie. Avevo una Nikon F4 e ancora una ventina di scarti dentro, ma proprio ero ghiacciato. La parola giusta ero ghiacciato, non riuscivo neanche a parlare quasi, perché come tanti pensavo che la Lebra fosse finita nel 1500. Per me non esisteva più la Lebra. Quando me li sono trovati lì, questi padri francesi mi hanno detto «Falle le foto e falle vedere i giornali». Insomma, mi hanno convinto a fare questi scatti. Quando sono rientrato in Italia e le ho sviluppate, ho capito che dovevo tornarci e raccontare una storia, perché di Lebra non ne parlava nessuno, non ne parla nessuno. Da lì ho cominciato il mio pellegrinaggio, ci sono tornato non so quante volte, ho fatto tutti i lebrisari africani, del Sud America, qualcosa anche dalle parti dell'India e di là, però soprattutto quelli africani. Tutti mi chiedono «Ma non hai paura del contagio?». Il contagio… l'incubazione è dai 15 ai 20 anni, quindi io potrei averla presa in questo primo viaggio e mi uscirà chissà quando, però il discorso è che prendo antibiotici, vado al camere per bar e che guarisco. Loro muoiono e nessuno fa niente. Queste non sono immagini di un fotoreporter secondo me, sono immagini di un medico, un infermiere, era una documentazione che io volevo fare delle elucirazioni, delle accutazioni, non era più il raccontare la storia delle brose. Ed ecco perché mi piace dire che io la sento come una missione sociale la fotografia che faccio. Un altro progetto che ho fatto sempre per gli occhi della guerra e al quale sono molto legato è la storia sulla miniera d'oro in Repubblica Dominicana. Sono venuto a sapere di questa Barre Gold, è una multinazionale canadese potentissima, ha comprato un appalto dalla ex Rosario Dominicana, dove la gente lavorava ancora con i badilli a cielo aperto. Questi hanno, con un appalto veramente con tre soldi, hanno portato questa miniera ad essere al primo posto al mondo per estrazione, ne tirano fuori dai 7 ai 10 mila chili al mese. Però lo fanno con il cianuro e il mercurio. Hanno ammazzato 200 persone, ripeto, hanno ammazzato 200 persone perché sono morte per le scorie che ci sono nell'acqua. Stanno morendo le combiente, muoiono gli animali, la cosa sta arrivando al mare, al mar dei Caraeri. Sono due fiumi che partono da questa montagna, il giagale Maguaca, che poi si ricongiungono e arrivano al mar dei Caraeri. Lungo queste coste, diciamo così, in queste colline ci sono 1600 persone che ci abitano, 1600 famiglie. Quando io avevo saputo di questa cosa ho voluto documentarla. Presto ci tornerò, anche perché ho voglia di tornare a casa, perché sono in contatto con il mio fixer quasi tutti i giorni, mi manda immagini e video. Questo è marzo del 2016. Ad oggi la contaminazione è scesa di 8 chilometri verso il mare. Ne mancano ancora 34 e poi il mar dei Caraeri, che vuol dire perdere anche i turisti e quant'altro. Sprofonderebbe nel baratro come Haiti. Al giornale, agli occhi della guerra, si lavora attraverso crowdfunding. Io sono direttamente il lettore stessi che attraverso delle donazioni ci permettono di partire, di viaggiare e di raccontare delle storie. Noi dobbiamo solo presentare queste storie, questi progetti. Se vengono accettati si parte e altrimenti... questo non è tanto il mio lavoro, l'ultimo che abbiamo visto non mi appartiene. Nel senso che io ho sempre scattato solo ed esclusivamente delle fotografie. Mentre qua mi viene richiesto, fai il video, fai il parlato, vai a fare le ricerche. Ci sono anche dei pezzi che io ho preso da internet, anzi il nostro amico Bobo, che è quello che assembla i video. Si fanno ricerche su internet, si aggiungono pezzi che magari non si hanno. Non è più il mio lavoro di fotoreporta. È vero, racconto una storia, la racconto come lo vogliono i giornali. Il giornale stesso l'ha pubblicato, ha avuto un seguito incredibile questo servizio. Però non è più... quello che appartiene a me è forse la fotografia ancora pellicola, tanto per intenderci. Che è quella che vorrei fare, ma che ho ovviamente con strumenti digitali che mi mettono a disposizione da usare questo. Torniamo al fotoreporter. Prima di lui parlavo di Ivo Saglietti. Ivo Saglietti per me è il miglior fotografo che abbiamo in Italia e rientra tra i miei gusti nei primi dieci al mondo. Proprio perché è una persona incredibile e ha sempre raccontato anche lui delle storie molto, molto, molto particolari. Io questa storia che andiamo a vedere è molto, molto breve. L'avevo vista a casa sua, mi aveva fatto vedere, anzi mi aveva regalato un libro bellissimo che lui ha fatto, seguendo la via della Negritudine, da Porto Prince a Oguidà. Lui è andato nei posti da dove partivano gli schiari e ha percorso tutta la via della Negritudine. Incappando anche ad Haiti o al confine tra Repubblica Dominicana e Haiti che una volta erano la stessa isola, si chiamano l'isola di Spagnola, oggi siamo divisi da un fiume, dove ci sono persone che vengono comperate o barattate, oggi nel 2017, che vengono impiegate nel taglio della canna da zucchero, a mano. Viene fatto col macete perché se venisse fatto a macchina non piacerebbe più nulla, invece facendolo col macete loro prima la bruciano, prima di essere tagliata e la lasciano di questa altezza nel giro di un mese con il calore che abbiamo e le piogge e già di nuovo a due metri, due metri e mezzo. Loro guadagnano da 80 centesimi a 2 euro ogni tonnellata che raccolgono. E una tonnellata di canna da zucchero, la farò vedere in una foto, è veramente tantissimo perché pesa poco e niente uno stelo di canna e quindi lavorano per nulla perché… e loro passano la loro vita, perché alcuni arrivano molto, molto giovani, 5, 6, 7 anni, e rimangono lì senza nessun diritto umano, gli hanno dato tutto, la pensione, la provenienza sociale e mai avranno i soldi per riscattarsi da chi li ha comparati, perché si parla di cifre di 40-50 mila dollari che loro non sanno neanche scrivere. In mezza giornata ho raccontato questa breve storia però per far capire che ancora esistono gli schiavi. Fuji mi ha chiamato, io ero ancora un contributore e mi ha detto guarda ti mandiamo una X-Pro2 da provare, non era ancora ufficialmente uscita, fai qualche cosa, mandacelo. Tant'è che io ho iniziato a fare le fotografie in bianco e nero perché mi interessava questa funzione acros che hanno iniziato a metterla sulla Pro2 e poi mi sono dimenticato e quando facevo i video ho fatto in bianco e nero, cosa che non dovrebbe farsi mai, però ci sta sentendo. E quindi il lavoro che ho fatto per X-Pro2 è stato questo qui. Giovanni era stato per il giornale nel ghetto di Rimano Garganico un paio di settimane prima che ci andasse e il 5 di agosto Fuji mi chiama di quest'anno Fuji mi chiama e mi dice guarda, io avevo le valigie pronte per andare al mare con la famiglia e mi dice ti mandiamo la X-Pro2 faccio un reportage perché i giapponesi vogliono che il Presidente Colonia questa macchina ecco ma adesso me l'ho detto, sto partendo per il mare e comunque vabbè, ho fatto una settimana e 10 giorni al mare e poi il 16 di agosto sono partito per la Puglia Giovanni mi aveva lasciato dei contatti che non mi sono serviti a nulla no, proprio si sono comportati malissimo e sono andato in questo ghetto ora, avevo questa macchina che non conoscevo assolutamente mi ero portato solo un 10-24 e siccome io lavoro sempre nel profocale ho detto al massimo fatto sta che sono arrivato e sono stato mandato via subito perché loro, i furbini erano entrati con le microcamere a bottone io invece avevo una macchina che si vedeva pur essendo piccola, dava nell'occhio quindi sono stato mandato via sono andato, sono tornato dopo qualche ora e ho detto facciamo finta che la collego il wifi del cellulare scatto tramite cellulare ho fatto qualche foto poi mentre ero così mi è arrivato uno da dietro, mi ha sgamato e mi hanno mandato via un'altra volta siccome ho la testa dura mia madre mi dice che ho la testa come i pirelli più pneumatici me ne sono andato e ho pensato mi gioco l'ultima carta e l'ultima carta è stata quella di impostare la macchina completamente in automatico quindi ho messo solo l'eperfocale e ho spento tutto monitor silenziosissima e ho messo l'intervallometro ho impostato che mi scattasse ogni 8 secondi e invece di mettermela al collo me la sono messa così e quindi me ne andavo in giro di questo cacchio di posto le immagini poi erano tutte e sono venute queste porcherie di foto perché veramente poi le ho dovute tagliare quadrati per dargli un senso e alla fine sono stato cacciato è venuto un signore con la pistola che mi ha detto che era mio che tornavo a Milano adesso ho anche quasi paura di tornare l'11 e il 12 in Puglia che devo andare a fare un seminario non vorrei se qualcuno lì mi aspetta e quindi ho fatto queste fotografie e mi sono vergognato tantissimo di dire a Fuji questo è quello che ho fatto e tutti mi hanno detto cazzo che belle foto ci direi che sono impazziti impazziti ma come se avesse scoperto l'acqua calda che si potevano rubare le immagini che è una cosa che per un fotoreporter mi dovevano ammazzare per rubare una fotografia invece queste sono tutte rubate però per il brand della macchina i signori giapponesi sono stati contentissimi no io avevo fatto il mio bello scritto prendendo spunto da quello che aveva scritto Giovanni i bambini raccontando la storia del caporellato della mafia e invece il brand il brand adesso è bruciato definitivamente bruciato questa è tutta gente che vive anche qua io ho conosciuto dei ragazzi senegalesi che vivono a Bergamo, Milano vanno giù e fanno la stagione della raccolta perché una volta il caporellato era bianco adesso prettamente nero quindi sono i cugini gli amici perché pagano tutto per andare a lavorare nei campi pagano per ricaricare il cellulare pagano per avere lampa pagano io non so cosa vado a non fare perché anche lì lavorano veramente gratis allora se io non vi avessi detto che ero in a parte Giovanni che c'è stato se vi dicevo qua ero in Sudan o ero in Tassura fatto sta che purtroppo il giornale non me le ha chieste non le ha volute io le ho date alla Repubblica che ha fatto un milione e quattrocentomila condivisioni e non mi ricordo più quanto centinaia di migliaia di visite quindi le fotografie più brutte e insignificanti che ha fatto hanno avuto un successo incredibile C'è ancora una storia che alla quale sono molto molto legato è sempre fatta a pellicola questa è un'altra storia di cui non parlava nessuno ai tempi che l'ho fatta poi sono le ragazze di Bucharest quelle che vivono nelle Fogne io conosco molto molto bene Milud Milud Uchili è stato fatto anche un film su di lui da Marco Ponte Corvo e vi consiglio di andare a vederlo si chiama Parada perché è il nome dell'associazione che lui ha fatto a Bucharest lui era un ex modello franco-algerino non dell'Isis e lavorava anche per il Cirque du Soleil e quindi quando è finito il regime di Ciausescu nell'89 ha voluto andare a vedere cosa era rimasto della Romania e si è trovato con questi ragazzi c'è una comunità ai tempi erano 5.000 che vivono nei tombini perché passano i tubi dell'acqua calda siccome a Bucharest poi erano in inverno e scende a meno 20 meno 26 insomma le temperature sono veramente loro dormono da sotto entrano e escono come dei topi Milud mi ha chiesto se volevo andare a raccontare questa storia e ci sono andato è un mondo incredibile loro prendono questa vengono chiamati in romeno li chiamano aurolaci o boschettari aurolaci perché prendono il nome da aurolac che è un collante di color argentino che lo usano gli italiani che sono là a fare le scarpe quindi quando vanno i ragazzi glielo vendono io l'ho già detto prima a me della fotografia mi interessa fino a un certo punto poi ci sei poi nella tua vita nella tua famiglia poi arriva la fotografia se hai il tempo e hai la possibilità di fare se no mi facciamo prima boh grazie Novi grazie e quindi il lavoro di noi reporter è proprio quello andare a cercare delle storie in cui si parla poco proprio che si parla e rendere le pubbliche la gente